Proseguiamo ora la passegna con il coro polifonico canto libero. Il coro polifonico canto libero si può definire un coro amato perché, ad esempio, il vostro successo è stato un coro che diverte di molti altri e non è l'escezione della parodia, anche se alcuni cori si rifengono una breve specie. Questo coro però nasce dalla volontà di alcuni amanti del canto corale e di cantare liberamente, per cui è appunto il nome del coro, e che ha come base il proprio territorio e la situazione omonoma di cui il suo vento principale è appunto il coro. Si è formato nel febbraio del 2004 nella collezione del maestro Dario Milis Amano, un organico di circa 15 milioni, che ha risorto a bene il 2007, il sottolineo a poco con l'esercizio di amanti agitantare e l'intervento della gamba della scuola di musica con musica insieme alla Nero. Nel 2000 ha deciso di costituire sempre sotto la terza considerazione in aprile all'associazione culturale coro-colifonico storiale di Chiesa e Canto Libero, diventata successivamente la situazione culturale coro-colifonico Canto Libero. Ha partecipato al museo della segna di corale e colifonico con le quali ricordiamo Civitano Tagliano, Midonia, Pugliano, Sant'Urino, Mizzico di Nocce, Narnia, Nore, Città della Pieve, Le Mucce e Terri e Spoleto. In occasione della scuola del festival dei Due Mondi nel 2009, la maggiorizzazione lupria di Chiesa. Dalla 2006 che inizia a presso la chiesa di Santa Maria e il futuro della Verona, con segni di varie muscoliche, un caso di attenzione. Nell'anno stato realizzata in modalità virtuale, la semplicissima attenzione con la speranza di poter tornare in Italia a pensare come si usava un tempo, così potremmo dire, in presenza. Dall'agosto 2008, un piano corredoso contabora per le parti corale con l'associazione spazio-musica di Genova per la testa scena di una per esempio tra le quali Cavalli di Rosicano, la Germania, la Germania, l'Italia, la Giovanni, il provatore, il giro d'amore, con la parte di San Paolo Ema, la sonnata e la seguì presso il teatro nazionale di Piondillo, mentre nel 2011 ci sono messe in scena della poeta il teatro delle luce di Rossini. Riccoetto, Carmen è ancora la tecnica della poeta presso il teatro un variato medico di Piondillo spizzato. Il repertole del po' in cui un piano ha subito molte variazioni degli anni della nostra potenza al minimo di 10 e 20 spazio tra diversi generi cittadini, piuttosto quando la musica leggera, appena classica, operistica, quello che ho fatto. E' scritto all'associazione regionale comune di Piondillo e associato alla Sassania. Il presidente di Piondillo di Piondillo, il direttore maestro imporrà brani che appartengono appunto la trascensione natalizia ma per scelta ha deciso di proporre brani che finalmente possono eseguire da vivo perché fino ad oggi sono stati solo eseguiti in modalità più quali con le stazioni e quindi questa è un'occasione buona finalmente per poterli trovare dal primo davanti al pubblico reale. e quindi il primo brano è stato utilizzato da Caterina Caselli con la montazione per corso dei progetti e rapporti d'acqua fatta da Maurizio di Amaroli e elaborata per la produzione a cartella dal direttore del corpo con la maestro di Maria Luisa Magna e poi il secondo brano sul crono e anche qui un'elaborazione di un rapporto perfetto di un po' di servizio del direttore il terzo brano è un'elaborazione che qui è realizzata l'approvazione da parte del direttore del corpo e chiuderà vedermi danzare per aver un omaggio ad un portatore da un posto fa che ha accalchiato anche qui un'elaborazione a tre voci di Pasquale è un'elaborazione di un'elaborazione del direttore del corpo con anche l'insegnamento di una distribuzione seguita inizialmente delle altre lingue delle lingue delle quali aveva cantato la canzone originale Franco Battanti che poi può seguire le analisi del libro all'Italia allora ancora un applauso per il direttore con il canto libro grazie 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 far presente che siamo in questo momento ci ricavano vicini siamo ancora di meno rispetto a quello che dovremmo essere però insomma cercheremo di dare il meglio buon ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti